Il terzo finalista è Schwalbe Elena Luisa, nata a Hamburg, Germania, di anni 23, nazionalità tedesca, cittadinanza tedesca, che eseguirà nell'ordine. Barber, concerto opera 14 del 1940, terzo movimento. Brahms, concerto in re maggiore, opera 77 del 1878, cadenza di Joachim. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.